Questi giovinastri non sovranno lo vizio di andare a fare l'amore nelle macchine in mezzo alla strada invece di rindarne al bergine. E' schifo guardate. Questo è un reato grosso, questo è atto, sceno e luogo pubblico. E andiamo a che fare ciò? Ma ora facciamoci lo sangue buon'asso, lo sangue buon'asso. Giovanotto, ma che state facendo? L'amore. L'amore? Sono duecento euro di verbale. Eeeh, duecento euro, è che esagerazione? Ah, siete in due, allora quattrocento euro. Eeeh, duecento euro.